Buongiorno e benvenuti. Il video di oggi è in risposta alla richiesta di uno dei nostri collaboratori, il quale, trovandosi coinvolto nella descrizione e rappresentazione di un loop di controllo, ha cominciato a porsi e pormi domande sul livello di dettaglio da raggiungere, per poi scendere in una discussione squisitamente filosofica sul che cosa sono e come debbano essere correttamente comunicati all'installatore e al softwareista. Di conseguenza, rendendoci conto della necessità da parte dei nostri dipendenti di essere informati anche su livelli di dettaglio differenti rispetto a quelli con i quali sono normalmente coinvolti, abbiamo deciso di realizzare questo video cercando di fornire quelle indicazioni necessarie affinché un loop di controllo possa essere correttamente descritto e capito. Ovviamente il video è destinato a chiunque voglia guardarlo. Pertanto vi invitiamo a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi e, se vi va, a mettere un mi piace. Concedetemi questa piccola premessa. I loop di controllo sono un qualcosa di intrinseco nel sistema di controllo di un impianto. Non vogliamo in questo video scendere in un livello di dettaglio eccessivo, vogliamo semplicemente limitarci a parlare di cosa sono i loop di controllo, come sono strutturati e come vengono rappresentati all'interno di documentazione tecnica ufficiale, quali P&I o schemi dedicati alla loro rappresentazione. Partiamo quindi con il definire cos'è un loop di controllo. Un loop di controllo è l'insieme di componenti che hanno lo scopo di quantificare una variabile di processo, sia essa temperatura, pressione, portata o altro, e, se richiesto, manipolarla. Esso è costituito da tre parti che in generale possiamo riassumere come Primo, il sensore, ossia lo strumento che fornisce l'informazione sulla variabile di processo controllata. Secondo, il controllore, ossia l'entità misteriosa che gestisce l'informazione ricevuta. Terzo, l'elemento di controllo che va ad influenzare la variabile di processo, sia, ad esempio, una valvola o un inverter. Questo elemento opererà in funzione delle istruzioni ricevute dal controllore. Vediamo adesso invece come rappresentare un loop di controllo. La prima rappresentazione e la più semplice è quella che viene attraverso un P&I. Lo scopo della rappresentazione sul P&I del loop di controllo è di tipo processistico, ossia spiegare, con brevi e pochi simboli, come il controllo avviene e attraverso quali entità esso venga sviluppato. Immaginiamo il classico loop di controllo di uno scambiatore di calore. Questo funzionerà nel seguente modo. Avremo una sonda di temperatura sul fluido di processo in uscita dello scambiatore, il cui segnale arriverà al nostro sistema di controllo, il quale a sua volta andrà a regolare l'apertura o la chiusura della valvola sul fluido termostatante a servizio del nostro scambiatore. Ecco, quindi la rappresentazione del nostro P&I ci dirà semplicemente che c'è un elemento di temperatura, una sonda di temperatura, la quale comunica con un quadro o con un controllore o con un sistema di controllo più avanzato, quale un PLC, un DCS, e quest'ultimo andrà a regolare la nostra valvola di controllo. Il P&I a sua volta ci dice attraverso quale tipologia di segnale il sistema è controllato. In parole povere, se in segnale è di tipo pneumatico o di tipo elettrico. Questo approccio vale per un sensore di temperatura, un controllo di temperatura, ma può essere applicato tal quale a un controllo di livello, a un controllo di pressione, a un controllo di pH. Tutto quanto funziona allo stesso modo. Ho una sonda che legge, un controllore che gestisce e un elemento di regolazione che regola e corregge il valore finale. Questo è quello che ci dice il P&I. Ma non ci dice come è collegato lo strumento al PLC, come è collegata la valvola, dove ci sono eventuali junction box e compagnia bella. Allo stesso modo non ci dice quanti cavi sono necessari, se lo strumento è attivo, passivo e cose di questo tipo. Il secondo documento che andiamo a vedere oggi, che ci aiuta a descrivere un loop di controllo, è il wiring diagram, lo schema elettrico. Quando si parla di wiring diagram, a questo punto abbiamo già il nostro quadro di controllo realizzato, o comunque in fase di realizzazione, è la filosofia di controllo definita. Quindi se andiamo a leggere il wiring diagram nella pagina delle schede di output e input, quindi sulle schede di ingresso e uscita del sistema, avremo rappresentato la morsettiera sulla quale lo strumento o la valvola dovrà essere fisicamente collegata e quanti cavi vanno da questa morsettiera alla nostra valvola, al nostro strumento. Quello che però spesso capita è che il quadro di controllo, il sistema di controllo, sia realizzata da una compagnia B, che non è la compagnia C, che esegue l'installazione a campo e il tiraggio dei cavi tra il nostro quadro e i nostri strumenti. Quindi potremmo essere in una condizione in cui alcuni elementi del nostro loop di controllo, ausiliari del nostro loop di controllo, non sono riportati, quali ad esempio le junction box a campo, oppure nel caso in cui abbiamo delle valvole comandate in maniera elettropneumatica con l'elettrovalvola installata direttamente sulla valvola, quindi a campo, potrebbe mancare l'indicazione relativa all'alimentazione di aria compressa alla valvola. Quindi, anche se più dettagliato rispetto a un P&I, anche lo schema elettrico può presentare qualche lacuna di informazione. L'ultimo documento che si può realizzare per la rappresentazione di un loop di controllo è quello che noi banalmente chiamiamo loop diagram, ossia un documento riassuntivo che identifica tutti i componenti presenti nel nostro loop, quindi dallo strumento ai cavi che collegano lo strumento con gli step successivi, eventuali junction box, il quadro con la morsettiera in ingresso e in uscita dei segnali e l'indicazione effettiva a PLC con l'indicazione di quale slot e quale address verrà poi utilizzato per questo segnale. È importante notare che qualora ci sia una parte pneumatica, anche questa qua dovrà essere rappresentata all'interno di questo loop diagram. Come potete vedere nel disegno delle mie spalle, le varie zone dell'impianto sono delimitate e rappresentate. In particolar modo per questo esempio abbiamo una zona definita campo che è dove fisicamente si trova lo strumento una zona definita junction box che è dove ci sono le scatole di derivazione il quadro principale con la morsettiera in ingresso la scheda di ingresso del mio segnale è un qualcosa che qui è stato definito sala di controllo che rappresenta la parte software del nostro loop di controllo. Faccio soltanto notare in aggiunta che nella zona campo per la parte relativa alla valvola è rappresentato anche l'airpot, il clarinetto con l'indicazione della valvolina su esso presente al quale l'area pneumatica è collegata ed è asservita alla nostra valvola. Il loop diagram è quindi il disegno, lo schema più completo per rappresentare il nostro loop di controllo. Si fa normalmente in una fase di ingegneria a cavallo tra quella di dettaglio finale e quella per costruzione è un documento che in fase di manutenzione e gestione degli impianti può risultare molto comodo ed è un documento che per impianti e progetti medio piccoli non si fa mai. Mi varrebbe da dire sfortunatamente in quanto è un documento che mi piace però obiettivamente per una questione di costi uno sia contenta di utilizzare le informazioni presenti sul wiring diagram. E con questo concludiamo il video, speriamo vi sia piaciuto, speriamo possa esservi stato utile mi invitiamo a iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo.